Insomma, sono abbastanza emozionato perché Gabriele Lavia è un grande artista italiano e al meeting per la prima volta, grazie a Luciano Violante che ha creato questo ciclo esseri italiani e l'incontro di oggi si chiama incontrare il genio artistico e Gabriele Lavia questo è da molti anni nel nostro paese. Ma è anche un italiano vero, da un certo punto di vista è un italiano esemplare, scusate la citazione di Coutugno, ma è nato a Milano stranamente. È nato a Milano però è di famiglia catanese. Poi la famiglia si è trasferita a Torino, poi ci sarebbe stata anche addirittura un'eventuale deviazione verso New York, ma poi non si è fatta perché suo papà, come racconta Lavia, ha scelto Torino. Ha fatto la scuola perché ci sono i filmati, poi sembra che mi monto la testa. È durata meno di un'ora la mia avventura. Anni di scuola a Torino, poi gli studi li ha fatti a Roma, quelli a Torali voglio dire, e da 50 anni è uno zingaro per tutti i grandi teatri italiani. È stato direttore di teatri stabili a Torino, a Roma, oggi lo è a Firenze. È stato un giovane attore diretto da Streller, da Patroni Griffi, da Giancarlo Sbraggia, da Squarzina, Missiroli, Sciaccaluga e quasi tutti gli altri. Poi è diventato un mattatore, come si dice, un capo comico, un regista di teatro, di cinema, di teatro d'opera. Ha fatto poca televisione, ha fatto molto cinema come attore e anche un po' come regista e oggi è semplicemente nel nostro paese un maestro, un punto di riferimento, un creatore di spettacoli e un interprete molto amato dal pubblico e questo, quelli della mia generazione secondo me lo capiscono, cioè è una voce Gabriele Lavia. Io ho trovato un frammentino in cui tanti anni fa Ilario Occhini, fa questa osservazione, vedo entrare Gabriele Lavia, un ragazzino, si mette a sedere brum, un vocione pazzesco. Ilaria Occhini è una cara amica. E Gabriele Lavia è uno stile nel teatro italiano. Allora, io chiederei la prima foto, perché il nostro percorso di stasera va attraverso alcune fotografie. Eccolo qua. È una foto legata alla televisione, mi ha spiegato prima il maestro, però io vorrei... Sì, doveva essere, siccome è come si dice in gergo, in abiti moderni, desumo che sia un vivere insieme. Ne ho fatti diversi, quindi... ero sempre un ragazzo disadattato. Televisione... Per questo mi prendevano, unicamente perché avevo i capelli lunghi. Allora, capello lungo trattino disadattato. È in conflitto col mondo e quindi col padre, con la madre, di genitori separati, difficili. Una volta mi ricordo che rubai a un benzinaio. Sì, sì. Rubai a un benzinaio nella fiction. Allora però non si chiamava fiction. Era bello perché si chiamava originale televisivo. Era una specie di televisione un po' originale, nel senso che era in abiti... Qui c'è una camicia jeans. La televisione era avanti. Qui c'è il jeans. La foto 2, volevo controllare se è in jeans anche quella. Vediamo la foto 2. È probabile. Foto 2, ecco. Altro vivere insieme. Credo che nel frattempo era passato... Forse mi ero tagliato i capelli d'inverno per fare la stagione teatrale e poi mi stavano ricrescendo della misura precedente. precedente. Ecco, ma cominciamo da qui. Cioè, questo giovane Lavia, il giovane Lavia che cresce nell'Italia degli anni 50-60, quell'Italia lì, cioè, come maturavano scelte, vocazioni? Che clima era quell'Italia in cui sei stato giovane, giovanissimo? Beh, era un'Italia molto, molto diversa da questa... Talmente diversa che quasi... È quasi impossibile raccontarla. Roma... Ecco, faccio un esempio. Quando dissi a mio padre, che era un uomone alto due metri e due. Io ho preso da mia madre, evidentemente, che era piccolina. Sono nato a Milano per errore, in quanto mio padre, sul fronte albanese, dopo una notte passata in una palude, contraste la meba. E allora dal fronte fu spedito a Milano per curarsi. E non tornò più al fronte, ma rimase, come si diceva allora, ai servizi sedentari. Il che voleva dire che era un servizio militare da seduto. Dovevi stare assolutamente rigorosamente seduto. Se ti alzavi in piedi erano cazzi amari, seduti. Il servizio sedentario. Allora mia madre, sapendo che mio padre stava lì, con due bambini, andò a Milano. Ma stiamo parlando nel 1942, non con le frecce rosse. Va a Milano, trova mio padre che nel frattempo era guarito. In 448 mettono in cantiere Gabriellino, il quale Gabriellino, appena nato, nasce proprio nel momento in cui bombardano Milano. Mio padre si catapulta dalla caserma verso la nostra casa via Farini, attraversa il famoso bombardamento sulla scala di Milano, quella cosa lì. E lui corre per Viale Manzoni, no? Per Viale Manzoni e mi ricordava, raccontava sempre mio padre, questo orrore della guerra che era l'incubo suo che correndo nel... stanno bombardando Milano. Oddio, stanno bombardando la casa dove abitiamo, corre verso la casa, attraversa la scala, supera la scala di Milano, supera la scala di Milano, sente un po' alto, pazzesco! E probabilmente è la scala, ma non osa girarsi. Corre, c'è un altro che corre nel disperato in senso opposto. Corre, ci sono degli aerei bassi che volano e bombardano. L'orrore dell'uomo non ha limiti. Sono un po' contrario al titolo del meeting. Ma... e mio padre fa in tempo a vedere questa immagine che si è portata fino agli ultimi istanti di vita. Quest'uomo corre, l'aereo, il bombardamento gli trancia la testa. La testa rotola a terra e lui per 3-4 passi continua a correre. E questa immagine, terrificante probabilmente, mio padre non se la toglierà mai davanti. Poi bombardano, per cui mia madre ci prende e dobbiamo sfollare vicino Milano, in un paesino che si chiamava Cassano-Valcuvia. Mia nonna era rimasta in Sicilia, faceva la maestra, sapendo che la figlia e i nipotini erano sperduti in qualche paesino del nord, non so come, come dagli appennini alle ande attraversa l'Italia e viene a Cassano-Valcuvia. E sono tutti sfollati, anche i bambini. E allora mia nonna, che faceva la maestra, prende una stalla e fa la scuola a tutti. Sono vite che noi non ci possiamo capacitare, siano esistite. Noi dicevamo, oh Dio mio, la nonna, quanto rompi, mamma, sveglia. E loro invece avevano attraversato mondi che noi non possiamo, noi abbiamo avuto una vita comoda, magari infelice, magari arrabbiata, ma non tragica. E però c'è sempre stata nella mia famiglia una specie di, così, amara. I miei non erano ricchi, poi eravamo quattro figli, per cui una amara speranza. Amara però una speranza, questa c'è sempre stata. E quando io ho deciso di far l'attore, mio padre fu ferito a morte, non voleva. Ecco, sei arrivato, con questo meraviglioso racconto, a questa fotografia. La numero tre. Allora, Tino Bozzelli, in questo Vita di Galileo di Bertolt Brecht, siamo a Milano, è il piccolo teatro, è del 1963. Io ho letto, in qualche intervista biografica, che Lavia dice, stavo a Torino, ricordo che un pullman in cui si andava, come dire, pieni di entusiasmo a Milano, a me viene da dire quasi in pellegrinaggio, in laico pellegrinaggio, a vedere il Galileo di Streller. Il pullman era stato organizzato da Piero Fassino, mi ricordo, che faceva parte del CUT, del Centro Universitario Teatrale di Torino. Ogni tanto quando ci incontriamo ce lo ricordiamo. Ma a proposito di questo voglio ricordare una cosa di Fassino che mi ha commosso. Quando un paio d'anni fa, quando ho fatto io Galileo e sono andato a Torino, Piero era sindaco di Torino, e capitò che la prima era il giorno del mio compleanno. E mi ha fatto un regalino, una piccola sagoma della mole antonelliana. L'ho molto apprezzato questo. E si ricordava perfettamente all'episodio del pullman Torino, che noi siamo ritornati a Torino dopo aver visto questo spettacolo che era lunghissimo, costrinsero Streller, era la prima, costrinsero Streller a tagliarne un pochettino. Qualcuno dice che finì alle due di notte. Sì, sì, io l'ho visto dodici volte lo spettacolo, dalla prima e poi anche l'ultima al teatro Eliseo di Roma. Sono le uniche due tappi che fecero, Milano, era una tale macchina, fece solo Milano e poi Roma. E poi Roma, sì, sì, l'ho visto dodici volte al spettacolo. Ma perché? E c'era Tino che mi diceva... Tino era una persona. Tino Buazzelli. Tino Buazzelli. Quello che vediamo lì. Io ero poverissimo, no? Ah, Gabriele, non per me qua, andiamo a cena, andiamo a mangiare, andiamo così, non ti preoccupare, che paga Tino. Era generosissimo lui, era un grande giocatore. Paolo Grassi non gli dede più la paga, perché se la giocava a campione, dove la dava alla moglie, non è che se la teneva, non la incamerava. Tino, per Dio, per Dio, Tino. Però mi fai capire cosa voleva dire che andare in pellegrinaggio a vedere questo emblema della cultura laica, perché poi... Ma io non lo so se era la cultura laica, sai, ti devo dire la verità, non è che quando vado a teatro penso se sia laico o religioso, cristiano o musulmano. Io guardo solo se lo spettacolo è bello. E quando è che lo spettacolo è bello? Lo spettacolo è bello, uno non si rende conto. Lo spettacolo ti prende quando c'è il teatro. Che cos'è il teatro? Non lo sa nessuno. Ma tutti lo riconoscono, è come l'amore. Dicendo, ma cos'è l'amore? Non lo so. Ma ti sei innamorato? Sì. E non sai cos'è l'amore? No. Il teatro è qualche... Teatron, luogo della Dea. Dea vuol dire sguardo al femminile. Dio, teion, teaomai, assisterea. E lo sguardo, quello che da dentro, quello che tu vedi, ti guarda. Non dobbiamo pensare al Dio giudaico-cristiano che sta lassù. Gli dei greci, quelli del teatro, stanno al livello dei tuoi occhi, sempre. Tu guardi in basso e c'è il Dio del pavimento che ti guarda. Tu vedi il pavimento. Ma c'è qualcosa che ti guarda che ti fa dire tu sei un pavimento. Tu vedi uno spettacolo e da quello spettacolo ti guarda il teatro. La Dea. Che cos'è la Dea del teatro? E' la aleteia, la svelatezza. Che cos'è la svelatezza? E' stata tradotta in latino con veritas. I latini non potevano tradurre il greco perché veritas da verum. Verum vuol dire barriera. Il verum è la posizione del soldato che rimane in piedi e fa da barriera contro il falsum, da fallere, caduto. Il concetto della verità romana, a differenza della verità greca, è che la verità è del vincitore. E il caduto è il falsum, hai perso. Devi metterti diritto, ma nel diritto romano. Per i greci la aleteia è la svelatezza di che? Di una lete. Che cosa vuol dire laton? Velato. Tutto è velamento. Tutto è velamento. Siamo circondati dal mistero. E il mistero è una serie di sguardi del mistero che ti guardano e quegli sguardi si chiamano teoi dei. I greci non hanno né una teologia, né una religione, hanno un culto, una cultura, che è stata la grande, è durata pochissimo, però è stata la vera grande salvezza del genere umano. Allora, utilizzo... Reverendo, capisco che per lei la salvezza è un'altra, ma se non ci fossero stati i greci non avremmo... Non diamo niente per scontato, non diamo niente per scontato. I greci sono venuti prima. Però mi piace molto questa distinzione vero o falso che hai fatto, perché io, cioè, questa nostra storia del meeting, questa storia che è nata appunto dall'intuizione di Luigi Giussani nel 1954, che sta all'origine appunto anche di questo meeting, nel 1963 fu un punto di opposizione forte dentro la città di Milano contro questo spettacolo, pensate. Il concetto era questo. C'era una battaglia che stavano facendo i Giesini di allora contro il monopolio delle associazioni studentesche di istituto. Nel senso che i presidi e alcuni studenti volevano che dentro ogni liceo, per esempio, dentro ogni istituto, ci fosse una sola associazione che rappresentasse tutti gli studenti. I Giesini, che avevano la loro identità, erano dei cristiani, dentro la scuola, dicevano no, una sola no, ci vuole una pluralità. E questo cosa c'entra con il piccolo teatro? C'entra perché quelle associazioni di istituto promuovevano la cultura del piccolo teatro. E quel genio assoluto di Paolo Grassi spingeva, però non dateci questa foto perché mi state anticipando tutto e non c'entra niente, stiamo qua ancora. Paolo Grassi, inventore insieme a Streller nel 1948 del piccolo teatro, aveva fatto in modo che in qualche modo nella città di Milano, nelle scuole di Milano, ci fosse una sorta di monopolio culturale, di fatto. Allora, da lì una battaglia infuocata nei primi anni Sessanta e quando arrivò questo Galileo, che appunto era uno spettacolo manifesto della cultura laica milanese, un grandissimo, soprattutto era meraviglioso evidentemente, questo è il punto, pesava per la sua bellezza, non era ideologica la faccenda, era che la bellezza era tale, però insomma fu molto interessante una cosa, pensate che uno come Paolo Grassi a Milano invitava al circolo Turati, che era il circolo socialista, tutta roba demolita, che non c'è più, tutto sparito, però allora nella città di Milano il circolo Turati era qualcosa, era un punto culturale forte, anche politico. Provate a pensare il grande Paolo Grassi, inventore del piccolo teatro, che dialoga con dei ragazzi, che magari hanno 15, 17, 18, 20 anni, e discute di politica culturale, e pensate all'Italia di oggi. Ora, è quasi un parlare di Galileo, dell'immagine della Chiesa dentro quel Galileo di Brecht, oggi ci fa ridere, erano battaglie forti che oggi, per esempio a partire anche dalla revisione di giudizio della Chiesa del 1992, in cui, come dire, il Cardinale Pupardo ufficialmente disse che la condanna del 1633 di Galliero era ingiusta ed era un'indebita commissione di teologia e cosmologia pseudo-scientifica e arretrata. Questa è la Chiesa Cattolica del 1992. Quindi, come dire, parliamo di qualcosa che è scomparso, però io voglio tirarti dentro in questo, cioè, quell'Italia lì usava il teatro, come dire, per dividersi e insieme parlarsi, confrontarsi. Paolo Grassi che parla con questi studenti, quando uno rilegge le cronache, quando uno rilegge i giornali, rilegge le sue lettere in cui racconta di questo scontro, era un'Italia molto diversa dalla nostra, o sbaglio? Beh, certo, sicuramente, ma Paolo Grassi era una persona fatta in questo modo, era una persona straordinaria. Io ero un ragazzino quando lavorai, un ragazzino, no? Sono molto giovane quando ho lavorato con Streller. Paolo Grassi capitava, anche se aveva già lasciato il piccolo teatro, era sovrintendente alla Scala di Milano. Però, come si dice, bazzicava sempre intorno a Via Rovello. C'era l'ombra di Grassi, era sempre presente. E aveva un affetto particolare per me che ero... Che cos'ero? Nessuno. Ciao, Olavia! Lei è la giovane speranza del socialismo italiano, ma io non sono socialista un tempo. Cazzi suoi! Quando feci, per dirti chi è Paolo Grassi, Paolo Grassi, quando feci la mia... Cominciai a fare il regista, vide tutti i miei spettacoli. Tutti. Il giorno dopo, ricevevo una lunghissima lettera. Cavolavia, il suo spettacolo è degno di nota. E cosa? Sono orgoglioso di... Mi permetto alcune note. Uno, due, tre, ventidue, sessantacinque, quattro, cinque pagine di note così profonde, così... E io gli rispondevo... Caro Paolo, lei ha ragione, ma purtroppo lei sa che un regista non può mai finire la sua regia, però mi ha fatto molto male sentire che lei ha capito tutto quello che non funziona dello spettacolo. Sempre conservo ancora delle lettere A e non è mai passata una prima che, per dire la qualità umana di queste persone, di un mio spettacolo senza che Paolo Grassi, finché è stato vivo, e Giorgio Streller, separatamente, ovviamente, non mi mandassero un telegramma, un biglietto. E conservo sempre l'ultimo biglietto che mi mandò Giorgio Streller. E lo ricordo a memoria. Lui era a Vienna. Sarebbe morto nemmeno un anno dopo. E io non so che cosa stessi recitando al lirico di Milano. E lui mi mandò un fax. Caro Gabriele, il nostro affetto è antico e intatto. E intanto il nostro amleto, puntini, aspetta. Punto. Ma non per molto. Punto esclamativo. Tuo Giorgio. Questa gente. E io chi ero? E questa è la grandezza. Che non scrivevano a un grande, scrivevano a uno di loro, perché avevano l'idea che il teatro fosse una fratellanza. Ho visto Streller a volte fermare le prove per guardare la pittura di una tavola, di quei grigi, quelli Streller, e stare un'ora, un'ora e mezza, un po' retorico come era lui, a fare i complimenti al macchinista che l'aveva pittato. C'era questo al piccolo, accadeva tutto. La foto sei. Guardiamo, lo Streller in prova con Boazze. Erano otto impiegati. Non ottocento. In otto. Ecco, però, ci hai detto la grandezza artistica e di questa fratellanza, come l'hai chiamata. Sì, sì, sì. Però è anche l'incarnazione di quello che loro chiamarono in qualche modo il teatro della comunità, cioè un teatro pubblico, perché noi in questa Italia smemorata... Vuoi un po' d'acqua? No, no. Ce l'ho, grazie. In questa Italia smemorata noi sappiamo che ci sono i teatri stabili nelle nostre città, no? Nelle maggiori città italiane. Ma non sappiamo che storia è. E la storia nasce in questo piccolo teatro milanese nel 1948 in Via Rovello perché questi due matti, Streller e Grassi, dicono non ci basta il teatro privato, non ci basta la compagnia privata, non ci basta quel modo di affrontare il teatro. Vogliamo una sala della comunità, una sala che sia che faccia teatro d'arte e che sia al servizio della comunità. Per esempio, in questo inizialmente, prima abbiamo parlato di cultura laica, eccetera, eccetera, in questo inizialmente in realtà questo progetto del Pico nacque, per esempio, questo lo sosteneva il mio maestro di giornalismo che si chiama Odoardo Bertani e che forse tu hai conosciuto come recensore dei tuoi spettacoli. Lui era, mi ha sempre detto che la sera, la prima sera del piccolo teatro a Milano del 1948 in cui debuttò questo teatro pubblico come teatro della città a scrivere il testo che avevano in mano gli spettatori fu un grande intellettuale cattolico che era Mario Apollonio. Lui ha studiato i documenti e l'ha scritto lui sostiene. Poi c'è dibattito su questo però Bertani sosteneva questa cosa qui. Come dire, quest'idea di di un teatro nutrimento siamo nel 2018 e quello era il 1948 dopo quella quella Milano che ci hai descritto tu in cui sei nato tu sta ancora in piedi quel sogno lì di un teatro tu da teatrante hai ancora quest'idea del teatro no è molto cambiato il teatro perché è molto cambiato il rapporto del teatro con la politica con o meglio neanche con la politica la politica forse non c'è più nemmeno con la burocrazia la burocrazia ha ucciso il teatro è molto semplice quando io ho cominciato a fare il teatro una stagione di teatro erano 150 repliche 150 150 repliche vuol dire recitare per sette mesi oggi le repliche sono 20 22 adesso tra poco andrò al teatro di Genova a fare uno spettacolo un testo di Ibsen Ion Gabriel Borkman faremo 22 repliche troppi impiegati o si pagano gli impiegati o si paga il teatro il problema è tutto lì però la ragione qual è? hanno ucciso il teatro ma perché la comunità non ha più bisogno di un teatro d'arte di nutrirsi di teatro qual è il punto? il teatro è una cosa così difficile che viene sempre male tranne qualche rara volta e ad alcuni a Giorgio capitava spesso ma anche lui ha fatto degli spettacoli che non gli sono venuti bene sempre a suo livello erano brutti al livello di Giorgio Streller non a livello di Tuzza Banchi Nicola era sempre Giorgio Streller valeva sempre la pena di vedere non c'era pubblico ce n'era di meno quando fece le Balcon di Genè che lui soffriva soffriva e io lo andavo spesso a trovare e lui diceva perché perché l'ho fatto perché mi hanno convinto a farlo non lo volevo fare bestemmiando come un turco ma era il suo modo di pregare pregare il dio il dio del teatro che chissà chi sia Dionis o forse o forse il dio tutto ma comunque non è risposta alla domanda la comunità non ha più bisogno no no ne ha bisogno l'Italia l'Italia ne ha bisogno più che mai perché il teatro che cos'è alla fin fine il teatro se non la rappresentazione dell'essere trattino uomo è questo lo spettatore se c'è un attore bravo se lo spettacolo è venuto bene se gli attori se il pubblico è un buon pubblico allora si stabilisce tra lo spettatore e il pubblico una condizione per la quale l'uomo si trova di fronte alla rappresentazione del sé e vedendo la rappresentazione del sé realizza il sé trattino stesso perché accade tra uomini e questa cosa voi adesso state in silenzio in questo silenzio non state ascoltando me state ascoltando quell'altro me che siete voi state ascoltando l'altro voi stessi l'altro me stesso voi perché io sono voi e voi siete me questa è la grande invenzione del teatro di questo luogo della dea di questo luogo della a le te schenè schenè luogo del nascondimento prosopon la maschera messo sopra per nascondere tutto questo nascondimento che è il fondamento del teatro a che serve se non perché qualcuno che sa oltre lo sveli lo tolga il sipario aulaia nero era saliva da sotto con due corde e due gru nel teatro greco poi muore Sofocle stava recitando Euripide e cambia il colore al sipario lo fa rosso come il sangue di Edipo Sofocle dice che il sangue che esce dagli occhi di Edipo è una specie di velo che nasconde Edipo dalla rappresentazione del falso che è il mondo e lo mette in contatto diretto attraverso un occhio interiore con un'altra verità e quel colore rosso misto a nero diventa il colore del sipario da allora in poi anche se qualche architetto demente lo fa blu verde giallo a pua l'ho visto anche a fiori credo a Rimini molti anni fa che vergogna adesso voglio chiedere è veramente io me ne andrei comunque invece sto qua allora foto numero sette mi sento piuttosto superfluo ci sono attimi in cui mi sento totalmente superfluo anzi un po' pericolo quest'uomo perché pensate si chiama Orazio Costa Giovancigli si chiamava Orazio Costa Giovancigli ma si chiama e pensate che dal 1944 alla fine degli anni 90 praticamente ha formato a partire da Gabriele Lavia tutti i più grandi attori italiani io ne ho buttati giù alcuni un elenco così alla buona Nino Manfredi Paolo Panelli Rossella Falc Gianrico Tedeschi Anna Miserocchi Ilaria Occhini Edmondo Aldini Franco Graziosi Glauco Mauri Enrico Maria Salerno Luca Ronconi Anna Proclemer Roberto Erliska fino sentite a Fabrizio Gifuni Luigi Locascio e Pier Francesco Favino tutto questo è Orazio Costa Giovancigli grande maestro grande insegnante di teatro di attori grandi formatori di attori e anche grande regista ecco voglio chiederti questo perché questo caso speciale perché io non lo so se in Europa o nel mondo c'è una tale continuità nella formazione dell'attore chi era costui Orazio era una persona straordinaria e con tutti i suoi difetti lui come posso dirlo non era era controcorrente sempre ed è per questo che in fondo è morto in povertà ha lasciato in fondo come testamento una frase che tu hai lì che è stata scritta se tu ci leggessi quella quella che adesso è una lapide in una via di Firenze è una lapide c'è una è una scritta che sta all'ingresso dei camerini del teatro della Pergola il teatro della Pergola era un teatro del Leti e Leti aveva dato in concessione gratuita l'alloggio in cima in cima in cima al tetto della Pergola poi gli avevano fatto mettere anche una scala da vecchio quando non riusciva più a salire e e e la la questa 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 insegna sentite sentite le parole di agli attori ecco lui si rivolge agli attori non so se forse è troppo da leggere è troppo bella troppo singolare e bella se sapete che il vostro strumento siete voi stessi conoscete anzitutto il vostro strumento consapevoli che è lo stesso strumento che danza che canta che inventa parole e crea sentimenti ma curatelo come l'atleta come l'acrobata come il cantante assistetelo con tutta la vostra anima nutritelo di cibo parcamente ma senza misura corroboratelo di forza di agilità di rapidità di canto di danza di poesia di poesia e di poesia diverrete poesia aitante metamorfosi perenne dell'io inesauribile soffio di forme determinati e imponderabili di tutto investiti capaci di assumere e di dimettere passioni violenze affezioni restandone arricchiti e purificati tesi alla rivelazione di ciò che è l'uomo angelo della parola acrobato dello spirito danzatore della psiche messaggero di dio nunzio a se stesso e all'universo di un se stesso migliore questa frase è ambiziosa di una profondità e di una potenza filosofica perché quando parla di psiche la parla la intende la psiche quando dice soffio intende sempre la psiche che vuol dire soffio alito respiro ma il soffio alito respiro in grado di dire la parola perché per i greci l'uomo è son logon ekon cioè il vivente che risuona di parola è intraducibile comunque però qui dentro lui dice per cui uno si chiede questo era un cristiano era un credente era un credente ma un credente tardivo un credente tardivo convertito si è stato si è ha fatto la prima comunione a 47 anni però vede l'attore come angelo della parola come messaggero di dio è più esplicito si si ma in senso pagano qui sta parlando veramente no 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 ma in senso pagano perché il teatro è pagano non esiste un teatro giudaico cristiano non c'è non esiste il teatro nasce chissà quando probabilmente in qualche tribù arcaica primitiva dove a un certo momento un uomo per errore per si è rappresentato nel suo essere doppio probabilmente ha rappresentato se e il diverso da se che lo voleva uccidere ha fatto questo forse finché poi un giorno stanco non aveva più le forze di fare tu che la sai che l'hai vista tante volte vieni a fare l'orso e non sapeva non è scritto da nessuna parte ma è ovvio che sarà andata più o meno così la vicenda e nel momento in cui da uno sono diventati due da lì non ci voleva più niente poi a farli diventare tre a farli diventare undici facendo i doppioni delle parti come per Shakespeare poi venti trenta quaranta attori nei spettacoli che faceva Streller poi i miei mamma mia che paura quanti sono ne vedremo e quindi non lo so se però Orazio Costa sarebbe d'accordo sull'idea di un teatro pagano forse direbbe umano più che pagano no no guarda è scritto qui il teatro ma non pagano nel senso che non voleva bene a Gesù no nel senso che è pagano nel senso che il teatro anche se lui tentò dopo i 47 anni di fare un teatro religioso non 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 ma mi spieghi perché non 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 il il teatro nasce contro gli dèi nasce contro gli dèi edipo viene accecato perché è andato contro gli dèi e queste ibris ma è conoscenza prometeo viene legato ma ha dato il fuoco è un'altra cosa il teatro è umano è umano appena entrano i santi la madonna Gesù diventa noioso perché c'è una speranza c'è una fede c'è un arrivo invece l'uomo non arriva ma ho detto umano e lui ha detto che è umano e non pagano no 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 niente ma 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 è una cosa la fede e il teatro non aspetta aspetta non si possono mescolare aspetta aspetta questo non vuol dire che un teatrante non possa avere la fede o il dubbio ma c'è il caso torno un attimo indietro c'è il caso di un di un formatore di attori che abbia così toccato così tante generazioni in Europa perché a me ha fatto impressione vedere no non credo non credo Orazio è un genio assoluto anche se secondo me ha commesso anche lui degli errori come tutti come tutti a un certo momento lui era fu ossessionato dal fatto che il corpo dell'attore doveva sposare l'immagine che la parola a cui la parola il logos alludeva commise un errore di carattere filosofico nel senso che lui per dirla in breve lui faceva fare degli esercizi per dire allora aveva la R recitava benissimo recitava così bene che noi eravamo estasiati quando lui diceva le battute da regista ma riusciva a spiegarle era 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 magnifico Streller non era come lui Streller era diverso e ebbene lui aveva l'idea che l'attore il corpo dell'attore dovesse l'acqua ma l'acqua a volte si ave anche in tempesta l'albero il sole la luna per cui alla fine un giorno però mi disse chissà forse il punto d'arrivo di ogni mimesi è l'immobilità a un certo punto ebbe il dubbio ma Orazio è un filosofo ve ne siete accorti da quello che scrive il vostro strume il vostro strumento siete voi stessi sta dicendo che l'essere attore probabilmente l'essere umano non è mai uno ma è sempre due in lotta tra loro in greco armos da cui armonia qui lui sta parlando di Eraclito e lui lo sa non è che gli viene per caso sta parlando dell'armonia del doppio in sé è talmente profonda questa frase ma voi non avete conosciuto Orazio era un uomo di una cultura stasera qualcosa abbiamo capito guardando oltre oltre cosa abbiamo immaginato e ovviamente non non fu capito anzi fu anche osteggiato tranne 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 Paolo Grassi e Giorgio Streller ma non solo io ti cito un grande scrittore drammaturgo italiano Giovanni Testori che è stato anche un grande amico del meeting che ha scritto alcune righe fulminanti su di lui lui dice il primo regista italiano non è stato Streller e neanche Visconti ma Orazio Costa il primo e il più grande dice io ho memoria dei sei personaggi fatti da Costa e vi assicuro che è uno di quegli avvenimenti di teatro totale unici a cui mi è accaduto di assistere ecco però attenzione dice Testori non è un caso che col crescere di tutte le strutture teatrose statali parastatali comunali paraculiche che si sono create in Italia Costa sia stato messo da parte e il nostro paese abbia il privilegio come dice un grande di dissipare i propri poeti quindi arrivando giù conferma quello che hai appena detto era un carattere pessimo intendiamoci era veramente difficile andare d'accordo con Orazio perché era cocciuto non voleva dico maestro 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 dobbiamo purtroppo bisogna fare così non tutto è come vogliamo e allora non facciamo lo spettacolo dobbiamo farlo sì però vedi allora no 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 era non era facile gli dovevi voler bene per forza ci sono di quegli aneddoti allora due foto invece in cui andiamo da un'altra parte proviamo facciamo una parentesi mi viene da dire leggera allora foto numero 8 vediamola in sequenza e poi che è un po' più interessante la foto numero 10 eccolo qui allora questo è il Lavia allora il primo era due film horror allora Zeder di Pupiavati del 1983 e invece questo è Inferno di Dario Argento uno dei vari film che hai fatto con Dario Argento del 1980 se non sbaglio dunque non è male questo Lavia traforato è finta vero? eh sì non è vera però ho fatto no dai allora c'è una molla dietro ma con tutto quel che il Lavia che ci hai come dire raccontato fino adesso perché fare questi che noi giudichiamo dei film ma te l'ho detto poco fa mi trovo ero per strada stavo camminando non mi ricordo che strada a un certo momento vedo un set dei camion cinematografari e vedo che c'è Leonora Giorgi lì che c'è qua ah ciao Leonora ciao dice ma che stai facendo ah sto girando con Dario vedo Dario Argento ciao Dario ciao ti prego Gabriele guarda ti prego c'è un problema enorme enorme ti prego è una sola posa solo stasera me la fai Dario va bene arriva il fratello ti preoccupa non ti preoccupa che parlo domani con la tua gente non ti preoccupa va bene va bene va bene allora la scena consisteva in questo che io ed Leonora prendevamo un ascensore c'era sta cosa qui dell'ascensore e io ero dico ammazza così dice mi accompagni a casa la prego mi dice Leonora Giorgi io la porto tutto che lei ha paura sì no avevo paura io di essere violentato sull'ascensore ho scritto anche a tutti i giornali per dire oddio ecco no insomma e mi porta a casa sua a casa sua lei è molto strana dice mi scusi mi puoi prendere un bicchiere d'acqua di là la prego io vado di là c'è tutto le cose si mettono bene mi pare che prendano una piega giusta e poi torno di qua ma quando torno di qua sono così e la scena era finita abbiamo girato una notte perché bisognava far vedere siccome eravamo a un certo piano allora non si facevano le capanne perché quando si gira di notte si gira di giorno ma dietro le finestre fanno quella che si chiama in termine cinematografaro fama a capanna a capanna è che metti una capanna tutta nera di sguincio metti un proiettore con una gelatina un filtro blu e fai la notte dare una luce come se viene da lì magari se vuoi esagerare ci metti un una luce un negozio un qualcosa intermittente invece questa era su la casa che avevano trovata stava su e quindi bisognava girare per forza di notte questa era per caso poi quando ho fatto non lo sono invece io ero direttore del teatro stabile di Torino che stava a piazza Carignano scendevo dall'ufficio e andavo a prendere al bar un qualcosa un caffè e mentre sto scendendo sale Dario Argento sale e ciao Dario ciao Gabriele cazzo Dario sei qui che fai ah no sto girando una cosa abbiamo l'ufficio sopra ah va bene ciao allora in questi giorni magari ci vediamo poi ceniamo e io continuo così poi lui si sporge Gabriele Gabriele scusa ma ma poi gira una parte no guarda non è tanto non è guarda tre quattro giorni massimo una settimana ma io sto lavorando qua poi la sera recito non posso ti preoccupare giriamo di mattina e così ho fatto non lo sono ho sempre fatto i film con Dario in questo modo ma quindi dopo che ho fatto Profondo Rosso che ho girato mentre stavo girando alla televisione la notte giravo Profondo Rosso e di mattina Marco Visconti Marco Visconti con Anton Giulio Maiano quindi la grande televisione Cavallo i Visconti del 300 a Torino a Torino Profondo Rosso a Milano cioè a Crema Pavia forse anche a Pavia Sì Crema Pavia giravamo Marco Visconti quindi una ammazzata una settimana di inferno veramente poi le altre scene le abbiamo girate a Roma ma quando finì poi ho avuto un mucchio di offerte di cinema ecco ma il cinema quindi hai fatto anche un po' di film come regista non hai fatto almeno cinque sì ma sono andato quell'estate che quando uscì il film la mia gente mi diceva no Gabriele dico ma io devo fare Enrico V Enrico V faccio Enrico V a Verona sì Gabriele ma questo è un film importante e devo fare Enrico V vado a fare Enrico V e ho fatto Enrico V capito? Allora il teatro insomma è il teatro la vita di Gabriele Lavia io chiamerei la foto undici perché il teatro vuol dire evidentemente Luigi Pirandello perché non solo forse perché è fondamentalmente un siciliano Gabriele Lavia ma questo evidentemente l'uomo dal fiore in bocca lo si capisce anche da questo meraviglioso gesto in cui fa vedere cosa c'è sotto quello è il punto nel racconto lui alza e fa vedere che lì c'è il tumore insomma lì c'è il fiore ecco Pirandello Pirandello l'hai frequentato tutta la tua carriera come attore come regista non per niente sei alle prese tanto per cambiare stai preparando i giganti alla montagna quindi Pirandello Pirandello è più grande Pirandello ed è Italia ed è l'Italia riconosciuta del Novecento riconosciuta in tutto il pianeta non l'hanno riconosciuto solo in Italia ma sì fu un fiasco colossale la prima del 1920 dei sei personaggi è noto gli buttarono le monetine se ne tornò a casa con la figlia gli trovarono una carrozza in fondo alla via Nomentana come dice in una novella alla vista degli orti foto 12 questi sono i sei personaggi di Gabriele e allora gli tirarono le monetine ma un mese dopo a Berlino era un trionfo a Parigi pure a New York anche ma non potevano capirlo gli piacevano i codemi a quel mondo Pirandello è un espressionista non guarda con gli occhi guarda con l'occhio interiore la sua realtà è storta e l'Italia invece era ancora bisogna guardare i disegni di Groz bisogna guardare quel mondo espressionista che in Italia era solo Luigi Pirandello che a quei personaggi quei personaggi gobbi storti sbilenchi malati è chiaro che il fiore in bocca dredici è un cancro è un cancro ma è il cancro della vita questo che cos'è? il padre il padre dei sei personaggi ah sì sei tu perché lui i personaggi di Pirandello hanno un problema qua sono tutti matti ma perché è nato in Italia il teatro di Pirandello perché è Italia e perché questa questa Italia ha segnato il mondo io ho una mia idea non si sa bene come non si sa bene perché questo signore questo Luigi Pirandello nato da una famiglia colta e bizzarra il padre e la madre hanno combattuto veramente non è che non hanno combattuto il padre ha tolto lo stivale a Garibaldi quando fu ferito Garibaldi gli rese quello che gli doveva e quando fu ferito lui Garibaldi lo portò al sicuro cioè era e la madre pure e viene fuori questo nasce questo bambino mentre c'è il colera ad Agrigento e allora mandano la madre in una località dove hanno una casa al caos caos parola greca che vuol dire disordinato spalancato spalancato il suo contrario è il cosmos ordinato abbellito il cosmetico mette in ordine fammi mettere in ordine diceva mia madre e e e e e questo probabilmente è un segno del destino dopo di che decide il padre si occupa di solfatare decide di scrivere il figlio all'istituto tecnico minerario lui di nascosto si scrive al liceo classico lo tengono nascosto al padre finché alla fine glielo devono dire e questo studia e studia decide di andare a studiare a bon va a bon e si laurea con una tesi in glottologia sui dialetti di girgenti della piana di mazzara 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 una pianta allucinogena che nasce in quelle zone e si chiama mazzarach da cui mazzara da cui ammazzare chi piglia il mazzarach riesce a ammazzare così come l'ascis riesce riesce a diventare assassino in questa strana piana che poi nei giganti della montagna dirà sono le voci degli assassinati che si sentono ancora lui la scrive in tedesco e torna ed evidentemente in Germania viene aggredito da quel mondo espressionista che sta nascendo va in Sicilia e dice ma accidenti ma sono tutti uguali ai disegni che ho visto a Bonn i miei i miei i miei amici per la strada tutti strani e lui capisce che deve fare il teatro e questa è una mia storia il teatro espressionista peraltro gli espressionisti sono dopo Verga che aveva inventato nel mondo il verismo che veniva dopo il realismo che veniva subito prima del naturalismo il realismo la realtà il reale il naturalismo la natura intesa come essere dopo il naturalismo arriva non l'espressionismo nasce un signore che si chiama Strindberg dopo viene il simbolismo dopo viene l'espressionismo attraverso un signore che si chiama Strindberg Munch l'urlo di Munch lo sguardo interiore e Pirandello è il campione è un genio è un genio assoluto e incompreso perché non l'hanno mica capito perché in Italia è stato fatto malissimo ma non malissimo volutamente è stato fatto molto bene ma l'idea che si ha ancora di Pirandello è attraverso la visione un po' bella che ne aveva la compagnia dei giovani Giorgio De Lullo l'eleganza il liberty Pirandello no non è così non è così i personaggi di Pirandello sono più complessi più antipatici più odiosi più vivono male con loro stessi e con la vita sono persone luride come il padre dei sei personaggi che è che è un personaggio abbietto schifoso abbietto che cerca di 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 frequentatore di bordelli la moglie la vuole fare copulare col suo impiegato le vuole guardare ma è una storia i sei personaggi sono storie terrificanti storte sguince malate è un autore e quando gli dicono questa è magnifica e senza soldi perché la solfatara del padre viene allagata non ci si allaga allora sono costretti a prendere la dote della moglie che lui ha sposato senza nemmeno aver mai visto e poi si innamora di lei ma la storia della vita di Pirandello è una cosa è un romanzo di Pirandello e e allora devono intaccare le 40.000 lire con cui il padre aveva venduto la figlia a te questo signor Portulano che era un come una persona violenta e un usuraio e mette che caccio sono 40.000 lire se tu figlio si sposa me figlia che se so adote lui non aveva una soldi scrive fate di me quello che volete poi vede questa ragazzina questa ragazza che usciva dal convento e che era stata progettata proprio per camminare sempre a occhi bassi e aveva sempre qualcuno che osservava se questa ragazza stava con gli occhi bassi e Pirandello quando la vede dice ma è pure bella io ne farò la mia l'amerò sento che posso amarla solo che questa povera disgraziata Pirandello a Roma è una persona capiscono che c'è un genio per cui la sua casa è sempre visitata dai grandi intellettuali italiani e non solo e questa è sempre così un giorno mentre sta sempre così tutti lei si alza attraversa la stanza va nell'altra stanza dove c'è il pianoforte e non si sente niente a un certo momento è un grande film la moglie di lui la moglie di Luigi Pirandello è veramente un grande film perché questa poveretta che poi fu messa al manicomio ma Luigi non volle mai metterla al manicomio a un certo punto però lei con un coltello da cucina si avventò su Luigi per cui fece un consiglio di famiglia già il magistrato l'aveva detto deve stare assolutamente in manicomio e la misero e fu anche per lei alla fine la misero in una casa di cura e anche per lei probabilmente fu trovare un po' di quiete in questa vita terribile terribile di tutti e due di tutti lui quando i genitori la famiglia dovette usare queste 40.000 lire per togliere l'acqua alla solfatara la moglie Antonietta tac cadde per terra paralizzata il marito la prese la mise sul letto la moglie era gelosissima di lui e lo teneva così lui che regalava le sue novelle a Treves quando Treves gli mandò la lettera dice mandami dice lui ti prego mandami delle novelle mi chiedono le tue novelle mi chiedono le tue novelle dice ma io purtroppo purtroppo non posso più scrivere gratis lo capisci io sono ridotto male ho bisogno di chiederti i soldi se vuoi le novelle Treves gli manda 7.000 lire per tutte quelle che aveva scritto e altre 7.000 lire dicendo queste queste sono l'anticipo per il tuo romanzo quale si sa la moglie è così lui steso a pancia sotto i fogli la penna le due asticciuole una rossa una nera l'unica cosa che sapevo di me di notte scrive era questa che il mio nome è Mattia Pascal non sapeva veramente mamma mia non sapeva capisci non sapeva come non sapeva veramente nulla io non so come uscire dalla storia di Pirandello perché ti voglio portare a un altro grande classico che tu ci hai anche insegnato 14 allora Amleto e Ofelia giusto Gabriele Lavia e Monica Guerritore siamo a metà dell'anni 80 è la mia terza edizione di Amleto ne ho fatte tre edizioni allora tu hai fatto un libro l'anno scorso in cui ci hai spiegato che se vuoi essere contemporaneo devi leggere i classici in qualche modo come dire è un inno proprio alla ma io amo i classici la vita è corta la vita di un attore ancora di più che perdi il tempo fare sciocchezze ma questo è interessante non c'è tempo torniamo a quel teatro di nutrimento di cui parlavamo reverendo lei è l'unico qui che mi può capire se devi fare una cosa il bene non si può fare domani va fatto ora noi diciamo sempre domani Amleto va fatto ora Otello va fatto ora quando lo faccio i sei personaggi che poi tra due tre anni non ho la forza di stare in piedi o di ricordarmi le battute perdo tempo a fare un testo moderno certo sei un capolavoro ma non è l'epoca dei capolavori non è il secolo non è il secolo no non è il secolo che cosa vuol dire è come il settecento inglese ci sono stati dei bei testi di teatro ma non il genio c'è stato Goldoni però un genio c'era qualcun altro vicino a Goldoni? no c'era qualcun altro vicino a Pirandello? no perché lamentarsi ma perché improvvisamente oggi siamo circondati da geni che devono essere rappresentati no non è così facciamoci pace 15 questo è il Macbeth più recente del 2009 credo sì Macbeth ne ho fatti due vado scalando ecco i classici Rellir lo fanno tutti senza vergogna ma hanno fatto dei Rellir tu con Carraro però con Streller lo ho fatto sì in 70 facevi Edgar ma hanno fatto dei Rellir recentemente che gridano vendetta il cielo è alla terra sono stati anche scomunicati ma io non so come faccio Rellir ma tu devi fare Rellir dopo che hai fatto Amleto Macbeth Enrico Quinto dice mo faccio Rellir ma fai una scoreggia di Rellir male ma ci vuole un po' di pudore quindi è un compito fare i classici in qualche modo è un compito ogni volta fare un testo importante metti ti metti sempre non è bello recitare Amleto o Enrico Quinto o Macbeth è un'angoscia perché sei sempre a contatto con la tua impotenza adesso devo dire domani e domani e domani striscia con passo meschino da giorno a giorno fino all'ultima sillaba che il tempo può registrare e tutti i nostri ieri sono serviti soltanto a illuminare la via alla morte fatta di polvere spegniti breve candela la vita è un'ombra che cammina un povero attore che si agita suda suda strilla sulla scena per il suo tempo non significa nulla cioè non è uno scherzo ma no adesso l'ho detto ma vi rendete conto di che cosa è stato scritto e perché ci possiamo lamentare se oggi non c'è un altro che la sa scrivere così e quello l'ha fatto per sempre era un genio era gente diversa da Pirandello non è come noi Shakespeare non è come noi è come Sofocale come Euripide come perché sono rimasti solo loro tre un caso perché quelli dovevano restare Euripide il maledetto che mette in bocca una Barbara non ho mai non sapevo che cosa fosse la menzogna finché non ho sentito parlare un greco 25.000 spettatori greci un provocatore dice perché Euripide non era molto amato no Gabriele questa la devo dire perché questo è commovente Eschilo a 47 anni prende parte all'atroce battaglia di Salamina contro i persiani i greci vincono Eschilo era già un grande autore di teatro torna e scrive a tambur battente dopo un paio d'anni scrive i persiani dalla parte dei persiani gli atroci nemici della Grecia e ne parla e li racconta con pietà verso la loro sconfitta c'è ma di che cosa stiamo parlando oh Eschilo eh adesso voglio ricattarti con questa foto che è la foto 18 dove sono completamente nudo no 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 con Asia Argento no questa non è Asia Argento questa si chiama Lucia ed è tua figlia ed è una si può dire una grande attrice una promettente no promettente ormai è una bella attrice italiana mia figlia è un sole è è un'altra cosa non si sa però va avanti quindi la tua strada certo con Lorenzo che fa il tuo mestiere con Lucia che fa il tuo mestiere Lorenzo è un'altra cosa Lorenzo è un bravissimo attore anche sta diventando anche un bravissimo regista ma Lucia è è un sole non ha preso da me dalla mamma no figlia tua di Monica no si sa è un perché non si sa ma quindi è questa l'Italia che è che può essere ma purtroppo che va avanti purtroppo è infelice ma forse allora chiedo avrebbe tutto per essere felice ma è infelice purtroppo allora chiedo questa 19 per chiudere il nostro percorso e forse per questo è brava potrebbe anche essere va bene così allora questo l'ultima immagine il sogno di un uomo ridicolo il sogno di un uomo ridicolo a me piacerebbe da pazzi però questa è una traduzione che probabilmente non ha che vedere è un montaggio del finale due frammenti probabilmente è un'altra traduzione evidentemente stiamo parlando di un grande racconto di Dostoievski che questo Gabriele Lavia ha messo in scena di recente Dostoievski come sapete è un autore gigantesco a un certo momento lui intuisce che l'unico modo per uscire fuori dal nichilismo assoluto dal nichilismo in cui si è infilata l'umanità c'è una sola via ed è la via del Cristo ma il Cristo di Dostoievski non è il Cristo della fede religiosa ma è il Cristo che incontri per esempio ci sono tantissime immagini del Cristo quella che io amo di più è nella memoria dal sottosuolo a un certo momento il personaggio che sta correndo sta andando a un bordello perché è stato offeso e allora vuole per vendicarsi pagare una donna e e passa davanti a un bordello è la sera di Capodanno e c'è la porta del bordello aperta e fuori in mezzo alla neve c'è una puttana tutta nuda un bordello di quarta quinta categoria per cocchieri per scaricatori per poveri uno di questi che la sta pigliando a pallate di neve rientra a prendere una ringa e va da lei e gliela mette in mano probabilmente dicendo chissà quale sconcezze che deve fare con questo pesce e questa donna a cui mancano dei denti in mezzo alla neve completamente nuda alza il pesce e urla sono tre righe ma per Dostoievski si presenta quest'uomo che vuole andare a fare del male a una prostituta pagandola solo questo non sarebbe in grado di picchiare solo pagandola offendendola offendendo il suo corpo e vede per un istante così il Cristo la donna l'essere umano violato sanguinante col simbolo col pesce in mano e la descrive tre parole ma solo tre parole di Dostoievski capite come una pennellata di Van Gogh che quando vai nei musei improvvisamente c'è gira su c'è qualcosa che ti folgora che ti fulmina e sono queste il sogno di un uomo ridicolo è il racconto della mia vita ho letto per la prima volta il sogno di un uomo ridicolo che avevo 17 anni poi a 18 l'ho letto a dei miei compagni dei miei amici un gruppo di amici abitavo a Torino facevo le scuole lì stavamo un gruppo di amici un po' disadattati andavano a teatro ai concerti leggevano i libri disadattati malati di mente insomma poi un giorno quello che aveva inventato il festival di Spoleto Menotti Giancarlo Menotti mi disse ah dice Gabriele faresti una cosa a Spoleto e io gli disse il sogno di un uomo ridicolo un conto dirlo un conto farlo mi viene in mente uno spettacolo devo mandare a memoria tutta questa roba qui ho due assistenti Franco Però che oggi è direttore del teatro stabile di Trieste e Luca Barbareschi un ragazzo che aveva fatto l'assistente volontario aveva 17 anni quando l'ha fatto all'Enrico V che io feci dopo Profondo Rosso era un ragazzo simpaticissimo Luca io non ce la facevo e loro due io scappai scappai no non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio io adesso chiamo Giancarlo Menotti glielo dico non sono capace non sono capace vado via e scappo stavo provando al teatro Eliseo nella sala prove in alto scendo scappo era il giorno in cui quel bambino poveraccio a Vermicino cadde nel pozzo tornai a casa e vidi questa cosa in televisione mi riprende e dice te la faccio imparare io cazzo non possiamo e allora Luca Barbareschi che è molto cambiato da allora anche se gli voglio bene come a un vecchio amico me l'ha fatta imparare lui ed è per Dostoyeri è uno degli ultimi racconti che lui ha scritto sette otto anni prima di morire adesso non ricordo bene la data di quando l'ha scritto insomma lui era direttore di un rivista letteraria che si chiamava Il Cittadino e scrive questo racconto insieme con altri ed è la sua uscita dal sottosuolo il sottosuolo Dostoyevsky memoria dal sottosuolo il sottosuolo sono quella condizione dello spirito in cui l'uomo che si isola dagli altri uomini vive come una specie di scarafaggio di topo in odio e odiando tutto il prossimo disprezzandolo profondamente per l'incultura per la non sensibilità senza accettare mai l'altro e naturalmente questo è un uomo ridicolo io sono un uomo ridicolo ora mi chiamano pazzo questo sarebbe un avanzamento di grado se per loro non rimanessi ridicolo come prima e racconta un sogno questo uomo che vive odiando gli altri a un certo momento viene fermato da un Cristo da Gesù in questo caso è una bambina una bambina lo ferma dice a un tratto mi senti prendere per il gomito era una bambina la bambina sui cinque anni con un fazzolettino rosso in testa un vestituccio addosso tutta bagnata tutta bagnata ma in modo particolare mi si impressero le sue scarpe bagnate lacere anche adesso me le ricordo mi erano balzate particolarmente agli occhi si era messa a correre accanto a me e gridava la mammina la mammina ma io dice non la seguo lui non la segue al contrario gli viene l'idea di scacciarla e di trattarla male e infatti come quegli cocchieri al casino buttano la neve addosso a quella puttana lei lui a questa qui gli fa le grida in faccia e lei rispose soltanto signore signore e poi di colpo mi lasciò e a precipizio attraversò la via era apparso si vede qualche altro passante lei si vede mi aveva lasciato per correre da lui e lui sale a casa si addormenta la faccio a breve e sogna sogna che cosa torna a casa decide di uccidersi si era comprato una magnifica rivoltella americana la mette sul tavolino intanto però c'è il pensiero della bambina questa bambina che lo irrita si sente un po' sta male perché l'ho scacciata in fondo e si addormenta e sogna di uccidersi e sogna di finire nella tomba e sogna l'ironia della colpa e della punizione una goccia d'acqua sull'occhio sinistro chiuso a ogni minuto di intervallo lui si ribella dice ma io mi sono ammazzato ho fatto una cosa importante e adesso tu chiunque tu sia ti vendichi di me per il mio irragionevole suicidio con l'assurdità e la mostruosità di un'ulteriore stupida vuota inutile esistenza qui sotto immobile con la goccia d'acqua la goccia d'acqua finisce si apre la tomba si apre la bara e un signore nero lo porta via e si trovano nello spazio e nello spazio arrivano in un altro lui vagando per lo spazio vede un altro sole uguale al nostro sole dice ma se quello è un sole come il nostro dice la terra come la nostra dov'è e lui il misterioso personaggio che lo porta via gli indica una terra identica dove finisce in questa terra vive l'uomo che non conosce il male dove tutti vivono felici non conoscono la menzogna i figli sono i figli di tutti tutti sono felici e lui e lui è sbigottito e io io si mette ad adorare l'uomo poi dice io li pervertì tutti come una perversa trichina come un atomo di peste che infetta interistati io infettai di me tutta quella terra gli insegnai a mentire e quelli amarono la menzogna conobbero la bellezza della menzogna la cosa cominciò innocentemente da uno scherzo da un gioco amoroso da una civetteria forse da un atomo ma quell'atomo di menzogna penetrò nei loro cuori e li sedusse poi rapidamente la menzogna generò la sensualità la sensualità generò la gelosia la gelosia generò la crudeltà non so come non so come ben presto sprizzò il primo sangue in due righe Dostoevsky racconta tutta la civiltà umana e alla fine lui quando cerca disperatamente di dire a questi uomini che si sono rovinati dice ma guardate che colpa mia finalmente su questi uomini comparve la sofferenza ed essi dissero che la sofferenza è bellezza perché solo nella sofferenza c'è un senso io andavo tra di loro torcendomi le mani piangendo su di essi ma li amavo ora sì li amavo più di quando erano innocenti e belli amai la loro terra da essi profanata più di quando era un paradiso solo perché su quella terra era comparsa la sofferenza era comparso il dolore io sempre avevo amato il dolore ma solo per me solo per me per gli altri piangevo commiserandoli dicevo loro che ero stato io a fare tutto questo ero stato io a portare loro la depravazione il contagio la menzogna li supplicavo di crocifiggermi insegnavo loro come si costruisce una croce una croce? sì sulla mia terra ogni uomo sa sa come si costruisce la croce ma quelli cominciarono a ridere di me cominciarono a dire che stavo diventando un po' strambo che forse era meglio cambiare tono che se no mi avrebbero messo in un manicomio un manicomio e in quel momento si sveglia si sveglia e vede la pistola pronta carica la candela sul tavolino era quasi tutta consumata c'era un grande silenzio attorno per prima cosa lui si alza in piedi vede la sua rivoltella la scansa oh dice adesso vivere vivere vita e predicazione parlare agli altri voglio parlare voglio predicare che cosa la verità perché l'ho veduta gli uomini possono essere innocenti e belli bellissimi e felici la traduzione tua è diversa senza perdere la capacità di vivere sulla terra io non voglio io non posso credere che il male sia lo stato normale degli uomini ma ecco quello che gli intelligentoni non capiscono un sogno è visto un delirio un'allucinazione e tanto si inorgogliscono un sogno cos'è un sogno la vita non è un sogno e intanto è così semplice è così facile e in un sol giorno in una sola ora in un attimo solo tutto si metterebbe a posto ama gli altri come te stesso è tutto qui e non serve altro e subito troverai il modo di comportarti giustamente col tuo vicino come è una vecchia verità un milione di volte è stata detta un milione di volte è stata ripetuta un milione di volte è stata letta non ha mai attecchito la la coscienza della vita è superiore alla vita la conoscenza delle leggi della felicità è superiore alla felicità ecco contro che cosa si deve lottare e io lotterò e tutto quanto si metterà a posto basta solo che tutti lo vogliano Gabriele Lavia dobbiamo correre e ci dispiace veramente mi ha perdonato il reverendo si è commosso ci dispiace tanto voglio ricordarvi una cosa che anche quest'anno è possibile contribuire alla costruzione del meeting attraverso donazioni a questo spoco lungo tutta la fiera troverete delle postazioni dona ora caratterizzate dal cuore rosso le donazioni dovranno avvenire unicamente ai desk dedicati dove troverete i volontari che indossano la maglietta color magenta dona ora grazie grazie Gabriele Lavia grazie a voi tante cose grazie grazie grazie